Che anima, che anima, che cuore, coraggio, coraggio, che ha questa squadra, mamma mia, mamma mia, che ha giocato una partita da grande contro il Leverkusen, che è una squadra forte, forte, ragazzi, forte, e per 40 minuti abbondanti la squadra di Gasp l'ha proprio annullata, la propria annullata per 40 minuti, ho visto una roba, una roba impressionante, non me l'aspettavo, io devo essere sincero, ho sempre detto questa squadra può arrivare in fondo, e poi l'arrivare in fondo passa da queste vittorie qua, ovviamente, però oggi, oggi ancora una volta l'Atalanta si conferma una squadra europea, 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 c'è poco da dire, quando tutte le altre hanno difficoltà all'Atalanta, non demorte, non molla di un centimetro, e oggi ritrova una pedina che è mancata per grampa, o meglio, per quasi tutta la stagione, che è fondamentale, Luis Muriel, strepitoso, che giocatore, ragazzi miei, se solo, appunto, trovasse la continuità avuta l'anno scorso, parliamo di tutt'altra storia. Ci stiamo accomunatando sul 3 a 2, prima di andare ad analizzare ancora più a fondo la partita, vi invito a lasciare un like, vi invito a iscrivervi, se volete seguire anche i prossimi contenuti del canale, andare lì, se no, dove c'è iscritto iscrivervi, e via, iscrizione, campanellina, e via, semplice, anche il like, è facile, lo so perché faccio, dico questo, tanto per, attenzione a DAB, attenzione a questo DAB non ha mollato, oh, di una virgola questa, non molla, non molla fino all'ultimo secondo, mamma mia, mamma mia, ultimo minuto di recupero, e scarichiamo sempre e comunque OneFootball, sì, perché ormai me lo dovete dire voi a me, me lo dovete dire voi a me, ma per chi non lo sapesse ancora, OneFootball è l'app gratuita, che vi permette di aggiornarvi su qualsiasi genere di notizia, legato al mondo del calcio, ovviamente allo sport, e quindi vi tiene aggiornati sulla vostra squadra del cuore, su una competizione in particolare, su un giocatore, su tutto quello che vi pare, link in descrizione o QR code, per scaricarla ancora una volta, diciamo, gratuitamente. Mamma mia, mamma mia, io l'altro giorno ho visto la partita tra Bayern Monaco e Leverkusen, e questa squadra qua ha fatto vedere i sorci verdi, si dice così, si può dire così, i sorci verdi al Bayern Monaco, veramente, è stata una partita di grandissimo livello, è appena finito, la Dea vince 3 a 2, ed è quasi un risultato che sta stretto, sta stretto, perché sul 3 a 1, quante occasioni, quanti tiri, quante volte è arrivata la conclusione l'Atalanta. Fatto sta, finisce 3 a 2, ci sarà gara anche in trasferta, ma sappiamo che la Dea, ormai anche in campo estero non si snatura, non perde quelle che sono i punti di forza. E dire che questa partita era iniziata in salita, perché i primi 10-15 minuti ho visto Leverkusen, ragazzi, con un palleggio, con una velocità, con una facilità di corsa, con un'intelligenza calcistica, che mi aveva fatto temere per il peggio, stavo lì già veramente quasi sconsolato, perché vedi una squadra che vince tutte le seconde palle, tutti i duelli, e sembrava una roba ingiocabile, ingiocabile, e poi ho trovato anche un gol di grande qualità, un dialogo tra Palacios, se non sbaglio Palacios e Virz, e va alla conclusione Aranguiz. Bellissimo, bellissimo, bellissimo gol, come poi è stato anche l'altro, però da lì, come al solito, una squadra come la Dea non molla, cioè non demorde, e trova identità con cuore, con coraggio, fa la sua partita, e trova la qualità di due giocatori importanti, uno che sta vivendo un momento anche a livello personale difficile, Malinowski, ma in campo, ragazzi miei, è lì concentrato, attento, implacabile, e il suo piedino, il suo sinistro magico sta trascinando questa talanta, l'altro giocatore ancora più determinante, perché ha delle qualità che non me ne vogliano gli altri giocatori, ma se Muriel mette in mostra quelle che sono le sue qualità, quelle qualità sono un qualcosa di più, sono un qualcosa che non trovi facilmente, che di certo al supermercato non ti vendono, ragazzi miei, perché Muriel, strepitoso, ecco, ho rivisto, ahimè, io, sto giocatore con questo livello, con questa qualità, lo vorrei vedere tutte le partite, ma immaginare tutte le partite, tranne quando gioca contro l'Inter, ovviamente, ma ahimè, giocatore, giocatore che quest'anno è mancato, e te ne accorgi quando poi c'è, quando poi c'è e fai il Muriel, che giocatore è, che quanto è devastante, destro, sinistro, l'assist su Malinowski che la fa passare in mezzo a tre, lapido, veloce, nel primo tempo, non so se avete notato quella giocata fantasmagorica, dove si lascia sfilare la palla e via, va a rincorrere, e quella movenza di corpo lascia lì, pietrificato il difensore, cioè, corpo, eleganza, velocità, dribbling, destro, sinistro, questo se ci sta e se ha quell'esplosività, spesso e volentieri, forse manca anche dal punto di vista fisico, perché magari comunque è bello pieno il ragazzo, cioè, a volte magari con scarsa condizione non ha quell'esplosività e perde, ma se ha l'esplosività che abbiamo visto stasera, non puoi adottare delle contromosse, perché ha veramente tanta, ma tanta, tanta qualità, e oggi sul 3-1 poi ha sfruttato anche il 4-1, e lì è stato, lì tu dici ha sbagliato Muriel perché sotto porta deve, invece no, invece no, lì l'ha incrociata perfettamente, ragazzi, non so se avete visto perfettamente, il portiere si è allungato, ha allungato il piede e ci è arrivato, non so come abbia fatto, complimenti al portiere, tra l'altro bellissimo gesto dove poi si stringono la mano, Muriel è il portiere dell'Everkusen, questa è un'immagine che mi piacciono, però veramente, veramente clamoroso, e l'Atalanta serve, serve l'attaccante, perché è quello che è mancato, perché in tutto il resto l'Atalanta c'è, cioè nella dedizione alla causa, nella corsa, nel portare e nel ricercare l'area avversaria con tanti uomini, continuo a farlo, rendersi battagliere in mezzo al campo, avere il controllo, il predominio anche dal punto di vista fisico, c'è sempre, ci sta sempre, non viene meno la Tanta, però lì davanti spesso si è ritrovata spuntata, stasera ritrovando Muriel abbiamo visto una squadra che poi può farti male in qualsiasi modo, dall'altro lato poi, verso il sessantesimo, giù di lì trova il 3-2, il Leverkusen, mette a posto anche dal punto di vista dell'equilibrio, la squadra, l'allenatore, levando, ecco, questa è una mossa che va capita, ecco, quante volte pensiamo, no, in momenti di difficoltà, se stai perdendo, se devi andare a vincere o a recuperare una partita, metti i tuoi tanti attaccanti, come è stato recriminato da Inzaghi, no, ma doveva mettere, sì, con l'uomo in meno, in cassa del Liverpool, doveva mettere 2-3 attaccanti, no, per prendere 4-5, cosa fa giustamente stasera l'allenatore del Liverpool? Quello che c'è da cercare è l'equilibrio in una squadra, quello c'è da ricercare sempre, l'equilibrio, quando non hai il controllo del, quando non hai il controllo del gioco, quando hai il controllo, poi sì, puoi approfittarti e magari mettere un terminale in più, ma devi prima avere il controllo, per ritrovare il controllo, il Leverkusen aggiunge sostanza dietro, mette un difensore, avvicina in più i due terminali offensivi e si rende più temibile e pericolosa e poi alla fine è stata una partita nel finale dove di nuovo c'è stato abbastanza equilibrio, però ripeto, resta la prestazione maiuscola della Dea, ancora veramente commovente, toccante sta squadra qua, ripeto ancora una volta, quando pensi che abbia dato tutto, quando pensi che più di questo non si può fare, l'Atalanta ti dice no, non hai capito niente, andiamo avanti. Vediamo, vediamo, aspetto con ansia, già il ritorno, è finita stasera, è finita adesso la partita, io sto già aspettando il ritorno, cioè sto già aspettando il ritorno, perché la partita rimane aperta, perché l'avversario che l'Everkusen è fortissimo, ragione per cui nulla è chiuso, è tutto aperto, ma se c'è una squadra che in questo momento può farci, è proprio l'Atalanta in campo europeo, ce lo sta dimostrando non da quest'anno, da quando queste competizioni le sta giocando, cioè da quando c'è entrata per la prima volta, per cui complimenti, veramente, ancora una volta, non possono mancare gli attestati di stima, verso questa squadra qua, verso la Dea. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate se volete per cui iscrivetevi al canale, l'ho detto, non lo so ragazzi, buonanotte, buonanotte.